Ivo Iurice, ex giovane promessa del basket croato, si ammalò di un tumore al seguito del quale gli venne amputata la gamba dal quale è stato già miracolato, in quanto gli erano stati diagnosticati due anni di vita, ad oggi non è la sua guarigione dal cancro che fa parlare, ma la dichiarazione della veggente Vicka che ha assicurato che quando apparirà l'atteso segno sulla collina delle apparizioni, come promesso dalla Madonna, questo sarà uno dei tanti miracoli che avverranno in quel momento e anche. La gamba di Ivo Iurice ricrescerà miracolosamente. Ivo Iurice che Meggiugorie, la Madonna promette che la sua gamba ricrescerà. Che la Madonna lo guarirà senza nessuna condizione, dopo il segno promesso. Vicka, se ti ho detto questo ti ho detto la verità. La Madonna ha detto che in quel momento molti guariranno ci saranno e con quel giovane si comporterà così padre Ianko, cosa vuoi dire con questo? Vicka, lui quasi tutti i giorni veniva alle apparizioni della Madonna e la Madonna ha dimostrato di amarlo particolarmente. Padre Ianko, come lo sai? Vicka, ecco come. In un'occasione, poco prima del Natale del primo anno, ci ha fatto vedere la sua gamba malata. Ha tolto via dalla gamba la parte artificiale, di plastica, e al suo posto ci ha mostrato la gamba sana. Padre Ianko, perché questo? Vicka, non lo so. Può darsi che la Madonna volesse dire che egli guarirà. Padre Ianko, ma lui, in quel momento, sentiva qualcosa? Vicka, dopo ci ha detto che gli sembrava che qualcuno lo toccasse sulla testa. Qualcosa del genere. Padre Ianko, va bene. Però la Madonna non ha detto che egli guarirà. Vicka, va piano, non ho ancora finito. Due o tre giorni dopo, sono venuti da noi dei giovani. Abbiamo suonato e cantato, in mezzo a loro c'era anche quel ragazzo. Padre Ianko, e poi? Vicka, dopo un po', ci è apparsa la Madonna, prima del solito. Accanto a lei ci stava quel ragazzo, tutto avvolto in una luce. Lui non lo sapeva, però ci ha detto, subito dopo, che durante l'apparizione sentiva qualcosa, come una corrente elettrica che gli passava attraverso la gamba. Padre Ianko, attraverso quale gamba? Vicka, quella malata. Padre Ianko, e poi? Vicka, ti ho detto quello che sapevo. Padre Ianko, però non mi hai detto se la gamba guarirà o no. Vicka, la Madonna ci ha detto di sì, ma più tardi. Padre Ianko, quando? Vicka, dopo che ci darà il suo segno, allora egli guarirà completamente. Questo ce lo ha detto verso la metà del 1982. Padre Ianko, a chi ha detto questo, a voi o a lui? Vicka, a noi. E noi lo abbiamo riferito a lui. Padre Ianko, e lui vi ha creduto? Vicka, come no? Egli lo aveva creduto anche prima, quando la Madonna ce lo aveva mostrato.